Genaire, capitolo trentasettesimo. Il maniero di Fort Dean era una costruzione molto antica, non molto grande e senza pretese architettoniche, nel folto del bosco. Ne avevo già sentito parlare. Il signor Rochester ci andava qualche volta. Suo padre aveva comprato la proprietà come riserva di caccia. Non aveva mai potuto trovare da affittare la casa perché il posto era insalubre. Così Fort Dean era rimasto disabitato e senza mobilio, a eccezione di due o tre stanze allestite per quando vi giungeva il padrone all'epoca della caccia. Vi arrivai che era quasi buio, in una sera di cielo nuvoloso e vento freddo. Cadeva una pioggerella insistente e penetrante. Percorsi l'ultimo chilometro a piedi, dopo aver congedato carrozzino e cocchiere col doppio compenso che avevo promesso. Neppure da vicino potevo vedere il maniero. Tanto erano folti ombrosi gli alberi che lo circondavano. Un cancello di ferro fra delle colonne di granito mi indicarono l'entrata. L'oltre passai e mi trovai nella semi-oscurità di una fitta piantagione di alberi. Vi era un sentiero erboso che scendeva a lungo la foresta fra i tronchi nodosi e sotto gli archi dei rami. Lo seguì, aspettandomi di raggiungere in breve la dimora, ma esso mi conduceva sempre più lontano e non vedevo nessun indizio di abitazione. Pensai di aver presa una direzione sbagliata e aver perduta la strada. Le tenebre della notte e l'ombra delle fronde mi si addensavano intorno. Guardai in giro in cerca di un'altra strada. Non la trovai. Dappertutto in treccio di rami, tronchi d'alberi eretti come colonne e denso fogliame estivo. Proseguì. Finalmente la mia strada si slargò. Gli alberi divennero meno fitti. Poi scorsi una cancellata. Poi la casa, che si staccava appena dalle piante, nella luce incerta, tanto le mura sgretolate erano verdi e umide. Entrai sotto un portone, chiuso semplicemente da un saliscendi, e mi trovai in uno spazio cintato da cui il bosco si allontanava in semicerchio. Non vi erano fiori né aiuole. Solamente un largo viale ghiaioso che racchiudeva un pezzo di terreno erboso, dove l'oscura foresta terminava. La casa aveva sulla facciata due pignoni appuntiti. Le finestre erano strette e munite di inferriate, e la porta, a cui si accedeva per un gradino, era pure stretta. Come aveva detto l'oste delle armi dei Rochester, il posto aveva l'aria desolata. Il silenzio era quello di una chiesa in un giorno non festivo, e il solo rumore che si udiva era una pioggia che tamburellava sulle foglie della foresta. Si può vivere qui? mi chiesi. Sì, una qualche sorta di vita c'era, perché sentii un rumore. La porticina della facciata stava per aprirsi, e una figura stava per uscire dalla casa. Si aprì lentamente, e là una persona, illuminata dalla luce del crepuscolo, rimase in piedi sul gradino. Un uomo senza cappello. Allungò la mano per rendersi conto se piovesse. Malgrado l'oscurità lo riconobbi. Era il mio padrone, Edward Fairfax Rochester, proprio lui in persona. Arrestai i passi, quasi il respiro, e rimasi a mirarlo, a osservarlo senza che mi vedesse. Ma, oimè, egli non poteva vedermi. Era un incontro improvviso, in cui la gioia era tenuta a freno dalla pena. Non ebbi difficoltà a reprimere le mie esclamazioni e i miei passi. La sua persona era sempre forte e robusta. Il portamento eretto, e i capelli ancora nero corvino. I tratti non erano alterati né scavati. Un anno, sia pure di sofferenza, non era stato sufficiente a schiacciare la sua forza atletica o a distruggere tutto il suo vigore. Ma nell'espressione vedevo un mutamento. Aveva l'aspetto disperato e chiuso. Mi ricordava un uccello o una bestia selvaggia, pericoloso per chi l'avvicinasse nella sua tetra sventura. Un'aquila in gabbia, a cui fossero stati crudelmente spenti gli occhi dorati, poteva essere paragonata a quel sansone cieco. Ma credi, lettore, che temessi la sua cieca ferocia? Se così fosse, mi conosci poco. La mia pena mi ispirava di posare un bacio su quella dura fronte, su quelle labbra così fermamente sigillate. Ma no, ancora non volevo accostarmi a lui. Discese il gradino e avanzò lentamente e a tastoni verso il terreno arboso, dove era ormai la sua fiera andatura. Costi si arrestò, non sapendo da che parte muoversi. Alzò la mano e si aprì le palpebre. Con uno sforzo volse lo sguardo vuoto al cielo e verso l'anfiteatro degli alberi. Si sarebbe detto che tutto per lui fosse vuota oscurità. Tese la mano destra. La sinistra, quella mutilata, l'aveva nascosta in petto. Sembrava che col tatto volesse farsi un'idea di quello che lo circondava. Non incontrò che vuoto, perché gli alberi erano a qualche metro da lui. Abbandonò il tentativo, incrociò le braccia e rimase fermo e silenzioso sotto la pioggia che cadeva fitta sul suo capo scoperto. In quel momento John spuntò fuori da qualche parte. Vuol prendere il mio braccio, signore? Disse. Sta per cominciare un acquazzone, farebbe meglio a rientrare. «Lasciami solo», rispose. John si ritirò senza che mi avesse scorta. Ora il signor Rochester cercò di camminare intorno. Inutilmente, tutto gli era troppo incerto. A tastoni rifece la strada verso casa e, rientrato, chiuse la porta. Io mi avvicinai e bussai. La moglie di John mi aprì. «Mary», dissi. «Come sta?» Essa trasalì come se avesse visto uno spettro. La calmai. «E' proprio lei, signorina, che arriva così tardi in questo luogo solitario», disse affiato mozzo. Le risposi prendendole la mano e la seguì in cucina, dove John stava seduto accanto a una bella fiamma. Spiegai loro in poche parole che avevo sentito tutto quello che era accaduto dopo la mia partenza da Thornfield e che ero venuta a vedere il signor Rochester. Pregai John di andare alla casetta della barriera dove avevo congedato il calessino per ritirare la mia valigia. E mentre mi toglievo cappello e scialle, chiesi a Mary se mi potesse sistemare per la notte. E saputo che la cosa, sebbene difficile, non era impossibile, ne dissi che mi sarei fermata. In quel momento suonò il campanello del salotto. «Entrando», dissi. «Dica al padrone che una persona desidera parlargli, ma non dica il mio nome». «Non credo che la riceverà», rispose. «Respinge tutti». Quando fu tornata, le chiesi che cosa aveva detto. «Vuol sapere il suo nome e che cosa vuole», rispose. Poi riempì un bicchier d'acqua e lo pose su un vassoio insieme alle candele. «Ha suonato per questo?» «Sì, la sera vuole che si portino sempre le candele, anche se non ci vede». Mi dia il vassoio. Lo porterò io». Glielo presi dalle mani. Essa mi indicò la porta del salotto. La mano che reggeva il vassoio mi tremava e l'acqua traboccò dal bicchiere. Il cuore mi batteva precipitosamente. Mary aprì la porta e la chiuse dietro di me. Questo salotto era triste. Sul bracere ardeva un tenue fuoco, e curvo su di esso, col capo appoggiato al solenne e antico camino, stava il cieco abitante di quella stanza. Gli stava di fianco il suo vecchio cane pilot, arrotolato e da una parte, come se temesse di essere inavvertitamente calpestato. Appena entrai, pilot rizzò le orecchie, spiccò abbaiando un salto verso di me, quasi facendomi rovesciare il vassoio dalle mani. Appoggiai questo sul tavolo, poi lo accarezzai e gli dissi dolcemente. Giù. Il signor Rochester, a questo trambusto, istintivamente si voltò per vedere, ma non vedendo nulla, si voltò di nuovo e sospirò. Dammi l'acqua, Mary. Mi avvicinai con ormai il bicchiere a metà. Pilot mi seguì sempre eccitato. Che cosa succede? domandò. Giù, Pilot, ripetei. Egli si arrestò, l'acqua le labbra e parve in ascolto. Beve e poggiò il bicchiere. Sei tu, Mary, non è vero? Mary è in cucina, risposi. Egli tese la mano con una mossa vivace, ma non vedendo dove stavo, non mi toccò. Chi è? Cos'è? domandò sforzandosi coi suoi occhi spenti di vedere, vano e doloroso tentativo. Rispondimi, parla di nuovo. Ordinò a voce alta e imperiosa. Vuole un po' d'acqua, signore? Ne ho versata la metà dal bicchiere. Dissi. Chi c'è? Chi parla? Pilot mi riconosce e John e Mary sanno che sono qui. Sono arrivata questa sera, risposi. Signore, che illusione si impadronisce di me! Che dolce follia mi invade! Nessuna illusione, nessuna follia. La sua mente è troppo forte per essere vittima di illusioni. La sua salute è troppo resistente per cadere nella pazzia. E dov'è chi parla? Soltanto una voce? Oh, non posso vedere, ma devo toccare o il cuore arresterà i suoi battiti e il cervello scoppierà. Chiunque tu sia, che la mia mano si posi su di te o morirò. Cominciò ad avanzare tastoni. Io arrestai la sua mano vagante e la imprigionai nelle mie. Proprio le sue dita, gridò. Le sue piccole dita affilate. Deve esserci allora anche la sua persona. La sua mano muscolosa si liberò dalle mie. Si impossessò del mio braccio, della mia spalla, del mio collo, della mia vita. Mi trovai allacciata e stretta a lui. E Jane? Chi è questa? Queste sono le sue forme. Questa la sua figura. E questa la sua voce? Aggiunsi. E tutta qui. Anche il suo cuore. Dio la benedica, signore. Sono contenta di essere tornata nuovamente vicino a lei. Janeir. Janeir. Non poté dir altro. Mio caro padrone. Risposi. Sono Janeir. L'ho ritrovata. Sono tornata da lei. Veramente. In carne e ossa. Viva. Lei mi tocca, signore. Mi tiene stretta e abbastanza forte. Sono forse fredda come un cadavere o incorporea come uno spirito. Mia cara. Riconosco le sue membra e i suoi tratti. Ma non mi sembra possibile dopo tutta la mia infelicità. È un sogno. Qualche volta di notte ho sognato di tenerla stretta al cuore come faccio ora. Di baciarla. E sentivo che essa mi amava. E mi sentivo sicuro che non mi avrebbe lasciato. E non la lascerò più da oggi. Non mi lascerà più. Dice la visione. Ma mi svegliavo. E trovavo sempre che era una triste illusione. E mi trovavo solo e abbandonato. E la mia vita oscura e disperata. La mia anima setata è condannata a non dissetarsi. Il mio cuore affamato è condannato a non sfamarsi. Gentile, dolce sogno, annidato ora nelle mie braccia. Anche tu ti involerai come i tuoi fratelli. Ma Jane, baciami e abbracciami prima di andartene. Così, signore, è così. Premetti le mie labbra sui suoi occhi, una volta lucenti e ora senza luce. Gli tolsi i capelli dalla fronte e la sai. Improvvisamente si scosse e cominciò a credere alla realtà. Sei tu. Sei Jane. Allora, sei ritornata da me? Sì. E non giaci morta in fondo a un fosso o a qualche fiume e non langui esule fra ai stranei. No, signore, ora sono una donna indipendente. Indipendente? Che cosa vuoi dire, Jane? Mio zio di Madera è morto e mi ha lasciato cinquemila sterline. Ah, questo è reale, gridò. Io non l'avrei sognato. E poi c'è quella sua voce tanto vivace e briosa quanto dolce che accarezza il mio cuore abizzito e gli ridà vita. Che cosa, Jane? Sei una donna indipendente? Una donna ricca? Proprio ricca, signore. Se lei non mi permetterà di vivere con lei, potrò costruirmi una casa in vicinanza della sua e lei potrà venire a sedersi nel mio salotto quando la sera desidererà compagnia. Ma se sei ricca, Jane, certo avrai degli amici che si occuperanno di te e non ti sacrificherai a dedicarti a un disgraziato cieco come me. Sono indipendente quanto ricca, sono quindi padrona di me stessa. E tu starai con me? Certamente, se lei non farà obiezioni. Sarò la sua vicina, la sua infermiera e la sua amministratrice. L'ho trovato abbandonato, sarò la sua compagnia, le leggerò, la condurrò a passeggio, la veglierò e sarò i suoi occhi e le sue mani. Non guardi così melanconicamente, mio caro padrone, finché vivrò non sarà più solo. Non rispose. Aveva l'aria seria, pensierosa. Sospirò. Schiuse le labbra come per parlare, poi le richiuse. Mi sentii un poco imbarazzata. Ero forse troppo temerariamente passata sui convenzionalismi. Come St. John, egli vedeva sconvenienza nella mia audacia. Veramente, avevo fatto la proposta con idea che egli mi chiedesse di essere sua moglie. Mi c'ero sentita incoraggiata, convinta che mi avrebbe immediatamente reclamata come sua. Invece, non gli sfuggì nessun'allusione a questo proposito, e la sua fisionomia si fece più grave. Improvvisamente mi ricordai che forse mi ingannavo e che facevo la figura di una sciocca. Cominciai a liberarmi dolcemente dalle sue braccia, ma egli mi serrò più forte. No, no, Jane, non devi andare via. No, ho sentito il contatto della tua persona. Ho udita la tua voce. Ho provato il conforto nella tua presenza. Non posso rinunciare a codeste gioie. Ben poco resta in me. Devo avere te. Rida pure il mondo. Mi chiami irragionevole, egoista. Non hai importanza. La mia vera anima ti reclama. O sarà soddisfatta? O si prenderà vendetta sul corpo che l'ospita? Bene, signore, rimarrò con lei, l'ho detto. Sì, ma stare con me tu intendi una cosa e io un'altra. Tu forse ti potrai rassegnare a stare intorno alla mia sedia a vigilarmi come una gentile infermiera, perché hai un cuore affezionato e un animo generoso, pronto a far sacrifici per quelli per cui senti pietà. E senza dubbio dovrebbe bastarmi. Perché ora dovrei provare solo dei sentimenti paterni per te. Non la pensi così? Su, dimmelo. Penserò quel che lei vorrà, signore. Se pensa che è meglio, mi accontenterò di essere solo la sua infermiera. Ma tu non potrai essere sempre la mia infermiera, Janet. Sei giovane. Un giorno dovrai sposarti. Non ci tengo a sposarmi. Ci devi tenere, Janet. Se fossi quello di una volta, cercherei di fartici tenere. Ma un disgraziato cieco. Ripiombò nella melanconia. Io, invece, divenni più vivace e presi nuovo coraggio. Queste ultime parole mi avevano fatto intravedere dove stava la difficoltà. E siccome per me non c'era difficoltà, mi sentii liberata dal mio precedente imbarazzo. Ripresi la conversazione in un tono più animato. È tempo che qualcuno la faccia tornare un uomo, dissi spartendogli i riccioli folti e trascurati. Perché vedo che sta diventando un leone o qualcosa del genere. All'aria di un bucodonosor, in mezzo ai campi, la sua chioma mi rammenta le penne dell'aquila. Non ho ancora osservato se le sue unghie sono cresciute come gli artigli di un uccello. Su questo braccio non ho né mano né unghie, disse traendo fuori dal petto l'arto mutilato e mostrandomelo. Non è che ho un orrendo moncherino. Non la pensi così, Jane? Fa pietà a vederlo e fa pietà a vedere i suoi occhi e la cicatrice sulla sua fronte. E il peggio è che c'è il pericolo di amarla di più per tutto questo e di occuparsi troppo di lei. Credevo che avresti sentito ripugnanza, Jane, quando avresti visto il braccio e la cicatrice sul viso. Non parli in questo modo se non vuole che dica qualcosa di diverso. Ora lasci un istante che ravvivi il fuoco e faccia risplendere il camino. Può distinguere un bel fuoco? Sì, con l'occhio destro vedo un vagliore, una bruma rossastra. E vede le candele? Molto vagamente, come un'aureola luminosa. Può vedere me? No, mia fata, ma già mi accontento di sentirti parlare. Quando cena? Non cenò mai. Ma questa sera prenderà qualcosa. Io ho fame e anche lei se ci pensa. Chiamai Mary e le feci mettere in ordine nella stanza. Gli preparai un buon pasto. Mi sentivo in vena e scherzai con lui a mio agio durante la cena e per lungo tempo dopo. Con lui nulla faceva da freno alla mia gioia e alla mia viva città. Mi sentivo senza imbarazzo perché lo comprendevo. Tutto quel che dicevo o facevo lo confortava e lo rianimava. Deliziosa sensazione. Tutta la mia natura ne traeva vita e luce. Alla sua presenza vivevo intensamente e lui viveva alla mia. Benché fosse cieco, il suo viso si illuminava del sorriso, la fronte si irradiava di gioia, i suoi lineamenti si addolcivano. Dopo cena cominciò a farmi molte domande. Dove ero stata, che cosa avevo fatto e in che modo l'avevo scoperto. Ma gli diedi solo delle risposte incomplete. Quella sera era troppo tardi per entrare in particolari. Inoltre non volevo far vibrare delle corde sensibili, procurargli nuove emozioni, poiché per il momento non avevo altra aspirazione che consolarlo. Ma vi riuscì solo saltuariamente. Se per un momento la conversazione languiva, ridiventava inquieto. Mi toccava con la mano e diceva «Jane, sei un essere umano, Jane! Ne sei certa!» «Incoscienza, lo credo, signor Rochester!» «Eppure, come hai potuto in questa serata buia e triste comparire improvvisamente dinanzi al mio focolare desolato? Allungai la mano per prendere un bicchiere d'acqua dalla domestica e mi fu offerto da te. Feci una domanda aspettando la risposta dalla moglie di John e sentii la tua voce. Perché entrai col vassoio al posto di Mary? E ogni ora che trascorro con te è un incantesimo. Impossibile raccontare la disperazione e lo squallore della mia vita passata. Non facevo nulla, non aspettavo nulla. Confondevo il giorno con la notte. Sentivo la sensazione del freddo se era spento il fuoco, della fame se avevo dimenticato di mangiare. E poi un'angoscia incessante, interrotta da crisi di folle desiderio di avere la mia Jane. Sì, bramavo molto più di rivedere te che di riacquistare la vista perduta. È mai possibile che Jane sia con me e dica che mi ama. Partirà improvvisamente come è arrivata. Temo che domani non la ritroverò più. Una risposta di ordine pratico, fuori del corso delle sue idee tormentose, era certo la migliore per lo stato spirituale in cui versava. Gli passai le dita sulle sopracciglia e, notando che erano abbruciacchiate, dissi che vi avrei applicato qualcosa per farle crescere folte e nere come prima. A che pro mi fai del bene, spirito benefico? Se in un disgraziato momento mi abbandonerai di nuovo, scomparendo come un'ombra che vada verso luoghi che resteranno per me inconoscibili. Ha un pettine in tasca, signore? Perché? Per pettinare la sua criniera ruffata. A vederla da vicino è piuttosto allarmante. Lei dice che sono una fata, ma assomiglia molto più lei a un ognomo. Sono brutto, Jane. Molto. Lo è sempre stato, lo sa. Domunque sei stata, non hai perduto la malizia. Eppure sono stata con delle brave persone, molto migliori di lei, cento volte migliori, con idee e principi che lei non ha mai posseduto in vita sua, molto più elevati. Con chi diavolo sei stata? Se si contorce in questo modo, le strapperò i capelli, e allora cesserà di avere dei dubbi sulla mia sostanzialità. Con chi sei stata, Jane? Per questa sera non riuscirà a farmelo dire, signore. Dovrà aspettare fino a domani. Se si accontenterà solo di metà della storia, sarà più sicuro che le apparirò domattina a colazione per finirla. A proposito, devo ricordarmi di non sorgere dinanzi al suo focolare con solo un bicchiere d'acqua, ma almeno con un uovo, per tacere del prosciutto fritto. Folletto mordace, metà fata e metà donna. Da un anno non mi sentivo tanto bene. Se Saul ti avesse avuto per suo Davide, lo spirito maligno sarebbe stato scacciato senza aiuto del suono dell'arpa. Ecco, signore, ha ripreso il colore ed è ridiventato decente. Ora la lascerò. Ho viaggiato per tre giorni e ho ragione di essere stanca. Buonanotte. Solo una parola, Jane. C'erano solamente delle signore nella casa dove sei stata. risi e mi schermi e ancora ridevo salendo le scale. Una bella idea, pensai allegramente. Ecco un mezzo per strapparlo alla melanconia per un poco. La mattina dopo ludii per tempo in piedi che girava da una stanza all'altra. Non appena me riscese lo sentii chiedere. C'è la signorina Hair. E poi? Che camera le hai assegnata? E' asciutta? Si' alzata. Va a chiederle se ha bisogno di qualche cosa e quando scenderà. Scesi non appena fu annunciata la colazione. Entrai nella stanza senza far rumore per poterlo vedere prima che egli si accorgesse della mia presenza. Che spettacolo doloroso scorgere quello spirito potente, schiavo dell'infermità fisica. Era seduto, fermo, ma non calmo. Evidentemente era in attesa. Sui suoi lineamenti marcati c'era il segno della sua tristezza ormai abituale. Il suo volto faceva pensare a una lampada spenta che aspetta di essere riaccesa. E, ahimè, solo un'altra persona poteva ridestare la fiamma. Sebbene cercassi di essere gaia e disinvolta, l'impotenza di quell'uomo forte mi commoveva nel profondo del cuore. Mi avvicinai a lui con tutta la vivacità che potei. È una magnifica giornata di sole, signore, dissi. Ha smesso di piovere e il cielo è terzo. Farà subito una passeggiata. Avevo dissipato l'ombra. I suoi tratti si illuminarono. Oh, sei qui, mia lodola. Avvicinati. Non sei partita, svanita. Ne udì cantare una, ora e un anno, sopra il bosco. Ma per me il suo canto non aveva melodia come il sole nascente non aveva raggi. Tutta la musica del mondo è per me concentrata nella mia geina. Sono contento che essa non sia per natura silenziosa. Tutto il sole è per me quello che radia la sua presenza. A sentire queste dichiarazioni mi sinumidirono gli occhi. Mi pareva un'aquila reale incatenata al suo posatoio, ridotta ad avere per mediatrice una rondine. Ma non volevo piangere. Asciugai le lacrime e mi diedi da fare per preparare la colazione. Passammo quasi tutta la mattina all'aria aperta. Lo condussi oltre i boschi umidi nei campi ridenti. Gli descrissi come era il loro verde brillante come i fiori e le siepi avevano l'aria rinnovata come era intenso l'azzurro del cielo. Gli cercai un posticino a meno sul tronco di un albero secco ove sedere. E quando si fu seduto non rifiutai di stare sulle sue ginocchia. E perché no? Se eravamo tanto più felici vicini. Pilot ci si sdraiò accanto. C'era una gran quiete. A un tratto, mentre mi stringeva fra le sue braccia, cominciò a parlare. Crudele e fuggitiva. Oh Jane, non immagini che cosa provai quando scopersi che eri fuggita da Tornfield e non riuscì a ritrovarti in nessun posto. E quando entrato in camera, mi accorsi che non avevi preso né denaro né alcun oggetto che ti poteva servire come un equivalente. Il vezzo di perle che ti avevo donato stava intatto nell'astuccio. I bauli erano legati e chiusi, pronti per il viaggio di nozze. Che cosa avrebbe fatto? Mi chiedevo. La mia diletta. Sole e senza un soldo. Raccontami che cosa facesti. Così cominciai il racconto delle mie avventure di quell'ultimo anno. Mitigai notevolmente le peregrinazioni e le sofferenze dei primi tre giorni, per non procurargli una pena inutile. Già il poco che dissi l'afflisse più di quel che desideravo. Non l'avrei dovuto lasciare, disse, e andar via senza alcun mezzo per vivere. Avrei dovuto aver fiducia in lui. Non mi avrebbe mai costretta ad essere la sua amante. Per quanto violento potesse apparire nella sua disperazione, mi amava troppo teneramente per diventare il mio tiranno. Mi avrebbe dato metà della sua ricchezza senza chiedermi neppure un bacio in cambio, piuttosto che sapermi spersa per il mondo senza un amico. Certo, avevo sofferto più di quel che confessavo. Qualunque siano state le mie sofferenze, sono state brevi, risposi. E poi cominciai a raccontare come ero stata ricevuta a Moor House, come avevo ottenuto il posto di maestra di scuola, eccetera. E poi l'eredità, la scoperta dei miei parenti. Naturalmente il nome di St. John Rivers tornò di frequente durante il racconto, e quando ebbi terminato, quel nome tornò subito a galla. Allora questo St. John è tuo cugino? Sì, hai spesso parlato di lui. Ti piace? E' un uomo ottimo, signore? Per forza mi piace? Un uomo ottimo? Vuoi intendere un rispettabile cinquantenne o che cosa? Se in John ha solamente ventinove anni, signore. Jeune encore, come dicono i francesi. E' di piccola statura, flemmatico e comune. Una persona la cui bontà consiste piuttosto nell'assenza del vizio che nell'esercizio della virtù. E' di un'attività instancabile, la sua aspirazione di compiere grandi e nobili imprese. Ma il suo cervello? E' forse piuttosto debole, ha delle buone intenzioni, ma a sentirlo parlare c'è da scuotere le spalle. Parla poco, signore, quel che dice sempre a proposito. Ha un cervello di prima qualità? Non sensibile, credo, ma vigoroso. E' un uomo di valore, allora? Veramente di valore. Un uomo profondamente istruito? St. John ha una cultura perfetta e profonda. I suoi modi, hai detto? Non sono di tuo gusto, vanitosi e formalisti. Non ho mai parlato dei suoi modi, ma a meno che io sia di ben cattivo gusto, essi sono incensurabili per l'educazione, la calma e la signorilità. Il suo aspetto. Ho dimenticato la descrizione che ne hai fatto. Una specie di prete grossolano, mezzo strangolato dal colletto bianco, essato su degli stivali dalla suola spessa, no? St. John veste bene, è un bell'uomo, alto, biondo, dagli occhi azzurri e il profilo greco. A parte. Che sia maledetto! A me. Ti piace, Jane? Sì, signor Rochester, mi piace, ma me lo ha già domandato. Capì naturalmente qual era la mira del mio interlocutore. La gelosia si era impadronita di lui. Lo pungeva, ma la puntura era salutare. Era una sosta dall'ogorante morso della melanconia. Quindi mi astenni dall'incantare immediatamente il serpente. Forse signorina Hare preferisce non seder più sulle mie ginocchia. Questa osservazione mi fu inaspettata. Perché no, signor Rochester? Il ritratto che ha tracciato suggerisce un contrasto troppo evidente. Le sue parole hanno graziosamente raffigurato un bell'Apollo. Egli è presente alla sua immaginazione, alto, biondo, con gli occhi azzurri e con un profilo greco. I suoi occhi si posano su un vulcano, un vero fabbro nero e massiccio, e cieco e infelice per giunta. Non ci avevo mai pensato prima di ora. Ma certamente lei, signore, assomiglia abbastanza a vulcano. Ebbene, mi lasci pure, signora. Ma prima di andare, e mi trattenne più che mai saldamente, non le spiaccia rispondere a una o due domande. Si fermò. Quali domande, signor Rochester? Allora ebbe luogo il seguente interrogatorio. «San John ti fece maestra della scuola di Morton? Prima di sapere che eri sua cugina?» «Sì». «Lo vedevi spesso? Veniva qualche volta a visitare la scuola?» «Tutti i giorni». «Approvava i tuoi sistemi, Jane?» «Immagino che erano ingegnosi, perché sei una persona di talento». «Li approbava, sì». «Avrà scoperto molte cose in te che non si aspettava di trovare. Hai delle capacità non comuni». «Non lo so». «Possedevi una casetta vicino alla scuola, hai detto. Non è mai venuto a visitarti là?» «Di tanto in tanto». «Di sera». «Una o due volte». «Una pausa». «Quanto tempo sei rimasta con lui e con le sue sorelle dopo che scopriste la parentela?» «Cinque mesi». «Il signor Rivers passava molto tempo insieme alle signore della casa?» «Sì, il salotto faceva da studio sia a lui che a noi. Egli sedeva vicino alla finestra e noi al tavolo». «Studiava molto». «Assai». «Che cosa?» «L'Indostano». «E intanto tu che cosa facevi?» «In un primo tempo studiavo il tedesco». «Te lo insegnava lui». «Egli non capiva il tedesco». «E non ti insegnava nulla?» «Un poco d'Indostano». «Rivers ti insegnava l'Indostano». «Sì, signore». «E anche alle sue sorelle». «No». «Desiderava lui insegnartelo». «Sì». «Una seconda pausa». «E perché? A che cosa poteva servirti l'Indostano?» «Aveva intenzione di portarmi con lui in India». «Ah, qui sta il punto. Egli desiderava sposarti». Mi chiese di sposarlo. «Questa è una storia, un'impudente invenzione per tormentarmi». «Mi scusi, ma è la pura verità». Mi chiese in moglie più di una volta e con tanta insistenza come potrebbe mettercela lei. «Signorina Hare, glielo ripeto. Si alzi pure. Quante volte devo ripetere la stessa cosa? Perché rimane ostinatamente appollaiata sulle mie ginocchia quando l'ho consigliata di abbandonarle?» «Perché ci sto comoda». «No, Jane, tu non ci stai comoda, perché il tuo cuore non è con me. E con questo cugino, questo St. John. Oh, fino a questo momento ho creduto che la piccola Jane fosse tutta mia, che mi amasse anche quando mi lasciò. Questo fu una goccia di miele in tanta amarezza. Per tutto il tempo che fummo divisi, piansi a calde lacrime sulla nostra separazione. Ma mai pensai che, mentre mi addoloravo per lei, essa amasse un altro. Ma è un affliggersi inutilmente. Jane, lasciami. Va a sposare Rivers». «Mi scacci allora, perché io non la lascerò spontaneamente». «Jane, ho sempre amato il tono della tua voce. Esso rianima la speranza e suona sincero. A udirlo, ritorno a un anno addietro. Dimentico che hai formato un nuovo legame. Ma non sono insensato. Va! Dove devo andare, signore?» «Per la tua via, col marito che hai scelto». «Chi è?» «Lo sai, questo St. John Rivers». «Non è mio marito e non lo sarà mai. Egli non mi ama. Io non amo lui. Egli ama come può amare e non è il modo in cui lei ama. Una bella signorina di nome Rosamond desiderava sposarmi solamente perché pensava sarei stata adatta a essere la moglie di un missionario, mentre quella no. È buono, nobile, ma severo. E per me è freddo come il ghiaccio. Non le assomiglia, signore. Non mi sento felice al suo fianco né accanto a lui né con lui. Non ha indulgenza, non ha tenerezza per i miei occhi. Non vede nulla di attraente in me, neppure la giovinezza, solamente alcuni vantaggiosi lati spirituali. E così devo lasciarla, signore, per andare da lui?» Ebbi un fremito involontario e istintivamente mi abbracciai più stretta al mio cieco amato padrone. Egli sorrise. «E la verità, Jane, stanno veramente in questo modo le cose fra te e Rivers?» «Assolutamente, signore. Oh, non ha bisogno di essere geloso. Volevo solo punzecchiarla per alleviare la sua tristezza. Pensavo che erodersi fosse meglio che soffrire. Ma se si auspica chi io l'ami e potesse vedere quanto l'amo, ne sarebbe orgoglioso e soddisfatto. Tutto il mio cuore suo le appartiene e con lei rimarrebbe anche se il fatto destinasse il resto di me a starle sempre lontano». Mentre mi abbracciava, di nuovo dei pensieri penosi oscurarono il suo volto. «Non vedo più. Sono uno storpio», mormorò con rimpianto. Lo accarezzai per confortarlo. Sapevo a che pensava e desideravo parlare in sua vece, ma non osavo. Volse un momento la faccia da una parte e vidi una lacrima sfuggirli dalle palpebre sigillate e rigare la guancia virile. Sentì il cuore gonfiarsi. «Non valgo di più del vecchio castano del frutteto di Thornfield colpito dal fulmine». Osservò dopo un momento. «E con che diritto questa rovina chiederebbe a un caprifoglio in fiore di coprire con la sua freschezza la propria decadenza?» «Non è una rovina, signore. Non è un albero colpito dal fulmine. È verde e vigoroso. Le piante cresceranno intorno alle sue radici. Lo voglia o no, perché sentiranno piacere nella sua ombra benefica, e crescendo si appoggeranno e si abbarbicheranno a lei, perché la sua forza offrirà loro un appoggio solido». Sorrise di nuovo. Le mie parole lo consolavano. «Tu parli di amici, Jane?» Egli chiese. «Sì, di amici». Risposi con esitazione, perché sapevo che egli intendeva parlare di qualcos'altro, di un amico. Ma potevo adoperare io un'altra parola. Egli mi aiutò. «Ah, ma io ho bisogno di una moglie». «Veramente, signore?» «Sì. Ti è nuovo?» «Naturalmente. Non ne aveva ancora parlato». «E' una novità sgradita». «Dipende dalle circostanze, signore. Dalla sua scelta». «La farai tu per me, Jane. Mi rimetto la tua decisione». «Scelga allora, signore, quella che la ama di più». «Sceglierò perlomeno quella che amo di più». «Jane, mi sposerai?» «Sì, signore». «Un povero cieco che dovrai condurre per mano». «Sì, signore». «Uno storpio di vent'anni più vecchio di te che dovrai assistere». «Sì, signore». «Veramente, Jane». «Veramente, signore». «Oh, mia cara, Dio ti benedica e ti ricompensi». «Signor Rochester, se nella vita ho compiuto una buona azione, ho avuto un pensiero buono, ho pronunciato una preghiera sincera. Ho sentito un desiderio retto. In questo momento ho il mio premio». «Essere sua moglie è per me raggiungere la più grande felicità». «Perché tu ami il sacrificio?» «Sacrificio? Quale sacrificio? La fame per il nutrimento, l'attesa per la soddisfazione. Avere il privilegio di abbracciare la persona che apprezzo, baciare la persona che amo, appoggiarmi su chi mi ispira fiducia. E questo si dice fare un sacrificio? Se è così, allora certamente amo il sacrificio». «E sopportare le mie infermità, Jane. Passar sopra alle mie manchevolezze. E se non sono nulla per me, l'amo maggiormente ora che le posso essere utile, che quando era orgoglioso della sua indipendenza e sdegnava ogni parte, fuorché quella di protettore». «Fin qui ho odiato farmi aiutare, farmi condurre. Da ora in poi sento che non lo detesterò più. Non mi piaceva mettere la mano in quella di un domestico, ma mi è gradito sentirla stringere dalle piccole dita di Jane. Preferivo l'assoluta solitudine alla continua presenza della servitù. Ma il dolce intervento di Jane sarà una gioia continua. Jane è fatta per me. Son fatto io per lei? Fino in fondo al mio essere, signore». «Se è così, non c'è ragione al mondo per aspettare. Dobbiamo sposarci al più presto». Parlava con ardore. Gli era tornata la sua antica impetuosità. «Senza indugio dobbiamo unirci in matrimonio. Non c'è che da ottenere la dispensa. Poi ci sposeremo». «Signor Rochester, vedo che il sole declina e Pilot è poco fa andato a casa per il pasto. Mi lasci guardare il suo orologio». «Attaccalo alla cintura, Janet. D'ora in poi tienilo tu. A me non serve». «Sono quasi le quattro pomeridiane, signore. Non sente fame?» «Ancora tre giorni e ci sposeremo, Jane. Ormai non importano i bei vestiti e i gioielli. Tutto questo non ha nessun valore». «Il sole ha asciugato tutte le gocce di pioggia. La brezza si è calmata. L'aria è calda». «Sai, Jane, che il tuo piccolo vezzo di perle è in questo momento intorno al mio collo abbronzato, sotto la mia cravatta. L'ho messo il giorno che ho perduto il solo mio tesoro, come suo ricordo. Andremo a casa per il bosco. Sarà la via più ombrosa?» Egli continuò il corso dei suoi pensieri, senza fare attenzione a me. «Jane, credi forse che sono un rinnegato, ma il mio cuore ora trabocca di gratitudine dinanzi alla bontà di Dio. Egli non vede come vedono gli uomini, ma con più chiarezza. Non giudica come giudicano gli uomini, ma con molta più saggezza. Agii male. Avrei macchiato un fiore innocente, imbrattato di colpa alla sua purezza. L'Onnipotente l'ha allontanato da me. Nella mia orgogliosa ribellione quasi maledissi la legge divina. Invece di inchinarmi al decreto di Dio, lo sfidai. La giustizia divina continuò il suo corso. I disastri si riversarono su di me. Fui costretto ad attraversare la tenebrosa valle della morte. I suoi castighi sono potenti, e uno di essi mi ha colpito e umiliato per sempre. Sai quanto andassi orgoglioso della mia forza? Che cosa ne è rimasta quando devo affidarmi alla guida altrui come un bambino nella sua debolezza? Da poco tempo, Jane, solo da poco tempo, cominciai a riconoscere la mano di Dio nel mio destino. Cominciai a sentire il rimorso, il pentimento, il desiderio di riconciliarmi col mio fattore. Cominciai qualche volta a pregare. Erano delle preghiere brevi ma sincere. Qualche giorno fa, ecco, posso precisamente contarli. Quattro. Nella notte dell'ultimo lunedì. Fui sopraffatto da una strana melanconia in cui il dolore aveva preso il posto della collera, dell'amarezza, dell'umor nero. Da lungo tempo avevo l'impressione che dal momento che non potevo trovarti in nessun posto dovevi esser morta. La sera tardi, potevano essere fra le undici e le dodici, prima di abbandonarmi al riposo, pregai Dio, se era un bene di togliermi da questa vita e ammettermi in quel mondo dell'aldilà dove c'era ancora speranza di raggiungere Jane. Stavo in camera mia e sedevo accanto alla finestra aperta. Era un storo sentire la balsamica aria notturna. Non potevo scorgere le stelle e solamente da un vago chiarore percepivo la presenza della luna. Ti desideravo, Janet. Oh, come ti desideravo, anima e corpo. Ormai dolente e schiacciato, chiesi a Dio se le mie sofferenze e i miei tormenti non erano stati abbastanza e se non avrei potuto godere pace e felicità ancora una volta. Riconoscevo d'aver meritato quel che pativo, ma che non avrei potuto sopportare dell'altro e tutti i desideri del mio cuore proruppero involontariamente nelle parole Jane, Jane, Jane. Pronunciò queste parole ad alta voce? Sì, Jane. Le pronunciai con tanta energia che se qualcuno mi avesse sentito mi avrebbe ritenuto matto. E fu la notte dell'ultimo lunedì vicino alla mezzanotte? Sì, ma l'ora non ha importanza. Il fatto più strano è quel che seguì. Mi giudicherai superstizioso. Un po' di superstizione ce l'ho nel sangue. Ma questo è vero. O almeno quel che udì e che ti racconterò è vero. Quando ebbi gridato Jane, Jane, una voce, non so da che parte giungesse, ma che riconobbi, mi rispose vengo, aspettami. E dopo un istante il vento mi portò come un sussurro le parole dove sei. Vorrei poterti descrivere quel che queste parole evocarono nella mia mente, ma è difficile esprimere quel che vorrei. Tu vedi che Ferdin è sepolto in un fitto bosco dove i suoni cadono inerti e muoiono senza eco. Quelle parole dove sei parevano pronunciate fra le montagne perché sentii l'eco ripeterle. Un vento più fresco mi pareva toccasse la mia fronte. Avevo l'impressione che io e Jane ci fossimo incontrati in un paese selvaggio e solitario. In spirito, credo, dobbiamo esserci incontrati. A quell'ora, Jane, certamente tu dormivi e non avevi coscienza. Forse la tua anima andava vagando fuori della sua prigione per consolare la mia, perché, come son certo che son vivo, era la tua voce. Lettore, fu precisamente la notte del lunedì verso mezzanotte che anch'io avevo ricevuta la misteriosa comunicazione. E quelle erano esattamente le parole che avevo risposto. Stetti ad ascoltare il racconto del signor Rochester, ma non ricambiai alcuna rivelazione. La coincidenza era troppo terribile e inesplicabile per essere comunicata e discussa. Qualsiasi cosa dicessi avrebbe certamente fatto un'impressione troppo profonda sullo spirito del mio ascoltatore. E quello spirito già propenso alla tristezza per le sue sofferenze non aveva bisogno di essere maggiormente turbato dal soprannaturale. Tenni per me e riflettei per conto mio su quei fatti. «Nessuna meraviglia», continuò il mio padrone, che, comparendomi ieri sera inaspettatamente dinanzi, stentassi a credere che fossi qualcos'altro da una semplice voce e un'apparizione, qualcosa che si sarebbe dissolto nel silenzio e nel nulla, come avevano fatto il sussurro della mezzanotte e l'eco venuto dalla montagna. Ora ringrazio Dio. So che non è la stessa cosa. Sì, ringrazio Dio. Mi tolse dalle ginocchia e si alzò, e toltosi rispettosamente il cappello, echinati verso terra, gli occhi spenti, fece una muta preghiera. Solamente le ultime parole furono udibili. Ringrazio il mio fattore che, nella sua sapienza, ha avuto misericordia. Imploro umilmente redentore di darmi la forza di condurre d'ora in poi una vita più pura di quella condotta finora. Tese allora la mano per lasciarsi condurre. Presi quella mano amata, la portai un momento alle labbra e poi la passai intorno alle mie spalle. Ero tanto più piccola di lui, e gli servivo nello stesso tempo da appoggio e da guida. Entrammo nel bosco e ci dirigemmo verso casa. Capitolo trentottesimo. Conclusione. Lo sposai, lettore. Fu un matrimonio tranquillo. Eravamo presenti solamente io e lui, il parroco e il sagrestano. Tornati dalla chiesa, andai nella cucina del castello, dove Mary stava preparando il pranzo, e John lustrando i coltelli. Mary, dissi, questa mattina mi sono sposata col signor Rochester. Sia la governante che suo marito appartenevano a quella categoria di persone dignitose e flemmatiche a cui si poteva in qualunque momento comunicare sicuramente delle notizie sensazionali, senza incorrere nel pericolo di aver le orecchie lacerate da strilli e poi rintronate da un fiume di parole di meraviglia. Mary levò gli occhi e li fissò su di me, e il cucchiaio con cui umettava un paio di polli, prima di farli rosolare al fuoco, per tre minuti rimase sospeso in aria, e per lo stesso spazio di tempo John cessò di lucidare i coltelli. Ma Mary, curvandosi di nuovo sull'arrosto, disse solo. Davvero signorina? Ebbene, sicuro. Una pausa e poi continuò. La vidi andar fuori col padrone, ma non sapevo che andasse in chiesa a sposarsi. E riprese il suo lavoro di umettare. John aveva la bocca aperta fino alle orecchie. Glielo avevo già detto a Mary, disse. Sapevo che il signor Edward. John era un vecchio servitore che aveva conosciuto il suo padrone che era ancora il cadetto e quindi spesso lo chiamava col suo nome di battesimo. Io sapevo che il signor Edward l'avrebbe fatto, ed ero certo che non avrebbe aspettato molto. Per me ha fatto bene. I miei auguri di felicità, signorina. Con rispetto sollevò il berretto. Ti ringrazio, John. Il signor Rochester mi ha detto di dar questo a te e a Mary. Gli misi in mano un biglietto di cinque sterline. Senza aspettare altre parole, lasciai la cucina. Poco dopo, passando dinanzi alla soglia di quel santuario, mi giunsero le parole. Gli andrà meglio che non a tutte le grandi dame. E poi? Se non è una bellezza, non è una stupida e ha un buon carattere. Ed altronde ha i suoi occhi e più che bella. Tutti lo vedono. Scrissi immediatamente a Morehouse e a Cambridge per dire il passo che avevo compiuto e spiegarne la ragione. Diana e Mary approvarono senza riserve la mia condotta. Diana mi annunciò che, passata la luna di miele, sarebbe venuta a trovarmi. Farebbe meglio a non aspettare fino allora, Jane, disse il signor Rochester quando gli lessi la lettera. Sarebbe troppo tardi, perché la nostra luna di miele durerà tutta la vita. Non cesserà che quando o io o tu saremo nella tomba. Non so come St. John ricevette la notizia. Non rispose mai alla lettera che gliela comunicava. Sei mesi dopo mi scrisse senza però fare il nome del signor Rochester né fare allusione al mio matrimonio. La sua lettera era calma, ma molto grave e gentile. Da allora continuo a scrivermi regolarmente anche se di rado. Egli spera che io sia felice e fida che non sia di quelle persone che vivono in un mondo senza Dio e non si interessano che delle cose terrene. E, lettore, hai forse dimenticato la piccola Adele? Io non la dimenticai. Subito ottenni il permesso dal signor Rochester di andarla a trovare nella scuola dove stava. La sua gioia folle di rivedermi mi commosse. Aveva l'aria pallida e mingerlina. Disse che non era felice. Trovai troppo rigidi i regolamenti dell'istituto. Troppo severo il suo corso di studi per una bambina della sua età. La portai a casa con me. Intendevo di farle di nuovo da governante, ma presto scopersi che era impossibile. Il mio tempo e le mie cure erano tutte assorbite da mio marito. Così cercai una scuola con un sistema più indulgente e abbastanza vicina da permettermi di visitare spesso la bambina e portarla a casa qualche volta. procurai che non le mancasse nulla che potesse contribuire al suo benessere. Essa si sentì felice della nuova sistemazione e fece progressi negli studi. Diventando grande la sana educazione inglese corresse in gran parte i suoi difetti francesi e quando lasciò la scuola fu per me una compagna gradita e compiacente, docile di buon temperamento e buoni principi. Da lungo tempo ha compensato con la sua riconoscenza quel po' di bene che le feci. Il mio racconto volge alla conclusione. Una parola sulla mia vita di sposata e un'occhiata alla sorte delle persone il cui nome è spesso ripetuto nella mia narrazione e poi avrò finito. Sono ormai sposata da dieci anni. So che cosa vuol dire vivere per la persona che più si ama il mondo. Mi ritengo supremamente felice. Felice come le parole non possono esprimere perché sono tutta la vita di mio marito come egli e la mia. Nessuna donna è più vicina di me al suo compagno e più di me è carne della sua carne. Non sono mai stanca della compagnia del mio Edward ed egli della mia, come se fossimo un sol cuore che batte in due petti. Stiamo sempre insieme. Lo stare insieme è nello stesso tempo per noi essere liberi come nella solitudine, essere contenti come in compagnia. Chiacchieriamo tutto il giorno. Chiacchierare fra noi è un modo più vivace di pensare a voce alta. Tutta la mia fiducia è riposta in lui, tutta la sua in me. Siamo fatti l'uno per l'altro per carattere. Ne risulta un perfetto accordo. Il signor Rochester restò cieco i primi due anni della nostra unione. Forse fu questa circostanza che ci costrinse a vivere vicini, che ci legò così strettamente, perché allora costituivo i suoi occhi, come sono ancora la sua mano destra. Ero alla lettera la pupilla dei suoi occhi, come spesso mi chiamava. Per mezzo mio vedeva la natura, vedeva i libri. Non ero mai stanca di osservare per lui e di tradurre in parole l'immagine dei campi, degli alberi, delle città e dei fiumi, delle nuvole e della luce del sole, del paesaggio che ci circondava, l'effetto del tempo che faceva, e dargli per mezzo dell'udito l'impressione che non poteva più essere impressa nei suoi occhi. Non ero mai stanca di leggere per lui, mai stanca di condurlo dove desiderava andare, di fare quel che desiderava che facessi. Trovavo in questi servizi un piacere profondo e squisito, benché triste, perché reclamava questi servizi senza né vergogna né umiliazione. Mi amava tanto sinceramente che non sentiva riluttanza ad approfittare della mia assistenza. Sentiva che l'amavo con tanta tenerezza che concedere questa assistenza era rispondere ai miei più dolci desideri. Una mattina, alla fine dei due anni, mentre stavo scrivendo una lettera sotto la sua dettatura, egli si curvò su di me e disse, Jane, hai un ornamento che luccica intorno al collo? Avevo la catena d'oro dell'orologio. Risposi di sì. E porti un vestito azzurro pallido? Era vero. Allora mi annunciò che da qualche tempo aveva l'impressione che l'oscurità su uno degli occhi stava diventando meno densa e che ora ne aveva la prova. Andammo a Londra, consultò un eminente oculista e in seguito recuperò la vista di quell'occhio. Egli non vede ancora molto distintamente, non può scrivere e leggere a lungo, ma può trovare la strada senza essere condotto per mano. Il cielo e la terra non sono più per lui un'oscura voragine. Quando gli fu posto sulle braccia il suo primo genito, poteva vedere che il bambino aveva ereditato i suoi occhi come erano una volta, grandi, lucenti e neri. E anche quella volta, dal profondo dell'anima, riconobbe che Dio aveva mitigato la giustizia con la misericordia. Così io e il mio Edward siamo felici e ancor più perché quelli che amiamo lo sono parimenti. Diana e Mary Rivers si sono tutte e due sposate. Tutti gli anni a turno noi andiamo da loro e loro vengono da noi. Il marito di Diana è un capitano di Marina, un prode ufficiale e una brava persona. Quello di Mary è un pastore, un amico di collegio di suo fratello, degno della parentela per cultura e buoni principi. Sia il capitano Fitz James che il signor Wharton amano le loro mogli e ne sono ricambiati. Quanto a St. John Rivers, egli lasciò l'Inghilterra, andò in India. Seguì la via che si era proposta e ancora la segue. Mai pioniero più risoluto e instancabile, sfidò le rocce e i pericoli. Deciso e pieno di fede, devoto e pieno di energia, di zelo e di sincerità, lavora per l'umanità. Illumina per essa la via del progresso. Abbatte come un gigante i pregiudizi della fede e delle caste che gli ingombrano. È forse duro, è forse esigente, è forse anche ambizioso. Ma la sua durezza è quella del guerriero dal gran cuore che protegge il convoglio di pellegrini dalle cariche di Satana. Le sue esigenze sono quelle dell'Apostolo che parla solo in nome di Cristo quando dice «Chiunque vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la croce e mi segua». La sua ambizione è quella di un nobile spirito dominatore, che aspira a ottenere un posto fra i prescelti della terra, che stanno senza macchia dinanzi al trono di Dio, che partecipano alla suprema vittoria dell'agnello che sono chiamati scelti e fedeli. St. John non si è sposato e non si sposerà mai. Finora è bastato da solo al suo compito, e il suo compito si avvicina alla conclusione. Il suo glorioso sole è prossimo all'occaso. L'ultima sua lettera mi ha strappato lacrime di simpatia e riempito il cuore di gioia divina. Egli già parlava della sua sicura ricompensa, della sua corona incorruttibile. So che la prossima lettera mi sarà scritta dalla mano di un estraneo, per dirmi che il servo buono e fedele è stato al fine chiamato alla gioia del Signore. E perché piangere? La paura della morte non offuscherà l'ultima ora di St. John. Il suo spirito sarà limpido, il suo cuore intrepido, la sua speranza sicura, la sua fede incrollabile. Le sue parole ne sono pegno. Il mio maestro, egli dice, mi ha avvertito. Ogni giorno si annuncia più distintamente. Sicuramente verrò presto. E di ora in ora, sempre con maggior fervore, rispondo, Amen, vieni pure, mio Signore.